Hanno donato giocattoli da altri bambini, organizzato periodicamente online dei giochi, cucinato grazie alla collaborazione dei genitori, hanno incontrato, sempre collegati tramite un PC anche degli anziani, inviato loro nel giorno di San Valentino dei cuori con dei pensieri, lettere, poesie e dolci. Le attività svolte dai giovani alunni delle classi Prima E, F e G del Plesso Pietro Leone e dell'Istituto Comprensivo Martin Luther King di Caltanissetta sono state raccolte all'interno di un video con il quale hanno partecipato al concorso nazionale il semestre della presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e con il loro elaborato sono stati premiati per la categoria multimediale. L'obiettivo del progetto è quello di educare le giovani generazioni al rispetto dei diritti umani nell'ottica della formazione delle coscienze civiche. I ragazzi hanno conosciuto e hanno avuto a che fare con altri ragazzi, altri individui che sono al di fuori delle mura della scuola. Ovviamente le attività non si esauriscono soltanto nella realizzazione di un video o di un elaborato ma continueranno tutto l'anno e negli anni a venire. I ragazzi hanno partecipato ad un percorso sui diritti umani in particolar modo bandito dal Consiglio d'Europa e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Sono stati selezionati perché ormai dalla nostra scuola da moltissimi anni si porta avanti un progetto che mira a formare le nuove generazioni al rispetto dei diritti umani e a vivere concretamente questo. Sono stati scelti da tantissime scuole d'Italia perché sono stati in grado di raccontare concretamente come vivere i diritti nella realtà in cui ci circonda. Nella fattispecie abbiamo realizzato dei laboratori di cucina online, delle tombole durante il periodo natalizio, con le comunità a rischio, con i bambini minori della Casa del Sorriso, con i nonni, e hanno sviluppato le cosiddette soft skills, cioè sono stati in grado al di fuori della scuola di raccontare com'è bello aiutare gli altri. Direttamente da Bruxelles si è collegato il Presidente del Consiglio d'Europa, il Ministero in diretta, e hanno voluto sottolineare come questi nostri ragazzi, che è un po' la mission della nostra scuola, qual è? Quello di accogliere ogni persona e far sottolineare che è importante. Perché ci hanno scelti? Perché il diritto al gioco non è stato raccontato, ma vissuto. E un grazie va a tutte le famiglie, ai nostri ragazzi, che in periodo di Natale sono stati talmente generosi da garantire il diritto al gioco ad ogni bambino. Durante la cerimonia di premiazione svoltasi in modalità online, guidati dalle docenti Maria Teresa Cordova e Marilena Pelonero, referenti del progetto, alcuni studenti e studentesse della scuola hanno raccontato la propria esperienza vissuta. È stato molto bello perché abbiamo aiutato delle persone bisognose, e abbiamo anche reso felici dei bambini, come i bambini alla Casa del Sorriso. Tu pensi che vorrei fare attività di questo tipo? Sì, perché comunque mi piacciono molto e mi piace molto aiutare anche le persone. Il mio intervento è stato di leggere i documenti sui diritti umani e da cittadino attivo li ho anche vissuti al di fuori della scuola. Le attività rientrano nel progetto Scuola e Persona, un progetto pluriennale che ha ottenuto in passato anche altri riconoscimenti. La scuola, infatti, ad esempio, è stata premiata come unica scuola media della Sicilia nella categoria Inclusione e Multiculturalità nel Festival Nazionale dell'Innovazione Scolastica e dal Senato della Repubblica per l'alto valore formativo del progetto in ambito educativo e didattico per la valorizzazione dei diritti.